Achini Angelo nasce a Milano il 6 marzo 1850. Studiò all'Accademia di Brera sotto la guida di Giuseppe Bertini. Trattò principalmente il genere storico ed il paesaggio. Valente acquarellista, diede prova di queste sue qualità esponendo quadri a tutte le principali esposizioni. A Milano nel 1881 espose una nevicata, a Torino, nel 1880, colloquio di Clemente VII con Carlo V ai danni di Firenze, a Milano, nel 1883, un battesimo e due ritratti, a Roma, nello stesso anno, interno di San Marco, Circus Romanus, tranquillo Cremona sul letto di morte, ottobre e tramonto. Achini Angelo si spense a Milano il 16 gennaio 1930. A Milano il 16 gennaio 1910.